Carissimi turisti e vacanzieri, benvenuti nella bellezza. Inizia così il messaggio che l'Arcivescovo Michele Seccia, come ogni anno all'inizio della stagione estiva, rivolge ai turisti e ai vacanzieri che popolano la città di Lecce e le marine della Diocesi. Sentiamo. La Chiesa di Lecce vi accoglie come fratelli e sorelle facendo proprio l'invito di Gesù ai suoi amici. Venite in disparte voi soli e riposatevi un po'. Sono queste le parole che Monsignor Michele Seccia, Arcivescovo della Diocesi di Lecce, ha espresso in un messaggio rivolto ai turisti e ai vacanzieri che si apprestano a raggiungere e ammirare le bellezze naturali e artistiche del territorio leccese. Dopo il riposo forzato che la pandemia ci ha imposto per troppo tempo, ora è il momento opportuno per un riposo meritato e le nostre città e il nostro mare sono i luoghi più adatti per ristabilire le relazioni interrotte, ma anche per connettersi con il Signore, ha suggerito il Vescovo. Il tempo di Dio è sempre, per questo se dedichiamo qualche giorno al riposo fisico, interrompendo i ritmi della consueta routine, nel nostro cuore e nella nostra mente faremo di tutto per non sospendere il contatto privilegiato con Lui, ha aggiunto Monsignor Seccia. Anzi, il riposo delle fatiche quotidiane sarà il luogo umano migliore per riprendere, qualora si fosse allentato, il dialogo con la bellezza eterna. Per l'Arcivescovo Lecce tutte le località della dioce si sono scrigni di bellezza sacra. Nel visitarle non fermatevi all'esteriorità dell'arte, mandate oltre per gustare l'operosità dell'ingegno umano, frutto della fecondità del creatore. E se entrando in una chiesa avrete bisogno di un prete cui confidare le vostre ansie e le vostre fragilità, non abbiate timore di chiedere. Troverete ascolto e tanta paternità. E poi l'esortazione a non girare lo sguardo dall'altra parte, qualora ci fosse la possibilità di incontrare uomini e donne in difficoltà, agli angoli delle strade, sulle spiagge infuocate e magari a vendere qualcosa nel tentativo di guadagnarsi dignità. Ai ragazzi e ai giovani Monsignor Seccia si è rivolto affidandosi al loro senso di responsabilità e alla virtù della prudenza. Mi raccomando, ha detto, non perdete di vista la bellezza della vita che con voi è particolarmente generosa. Non mettetela mai a rischio con intemperanze inutili.